Ciao a tutti, io sono Andrea e come sempre vi do il benvenuto sul mio canale. Analizzando le varie storie crime, mi sono accorto che si svolgono per la maggior parte negli Stati Uniti e, cosa ancora più sorprendente, moltissime in Florida. Non lo so, sarà il clima, sarà qualcosa nell'acqua, ma a me pare che sia proprio così. Infatti anche oggi vi porto in Florida. Quando Rachel Wade e Sarah Ludeman iniziarono a frequentare lo stesso ragazzo, credevano entrambe che lui avesse ormai lasciato l'altra. Questa convinzione portò ad una vera e propria guerra tra di loro, che si consumò non solo sui social media, ma purtroppo anche nella vita reale, con tragiche conseguenze. Negli adolescenti è un comportamento comune, invece di allontanarsi dalla persona che le sta prendendo in giro, da un bugiardo che sta facendo il doppio gioco e non merita la loro attenzione, combattono per ottenere l'amore esclusivo. Ma adesso che ci penso non è comune solo negli adolescenti, è umano desiderare sempre più ardentemente quello che non si riesce ad ottenere. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi al mio canale così da non perdere i prossimi video e di lasciare un commento ed un like se il video vi è interessato. Andiamo adesso ad iniziare. Rachel Marie Wade è nata il 27 febbraio del 1990 a Pinellas Park, in Florida, da una famiglia della classe operaia. Sua madre Janet dirà che era una bambina molto allegra che amava le principesse Disney leggere e disegnare. Era una ragazza ottimista che faceva facilmente amicizia con tutti. Al liceo però la ragazza aveva iniziato a dare più importanza alla sua vita sociale che alla scuola e aveva iniziato a contestare le regole dei suoi genitori, soprattutto quella che riguardava il coprifuoco per il suo rientro a casa dopo le uscite con gli amici. Rachel, anche se aveva soltanto 15 anni, credeva di avere il diritto di stare fuori tutta la notte. Perciò, quando i genitori le negarono il permesso di uscire, lei iniziò a scappare di casa regolarmente. Al secondo anno di liceo Rachel scappò di casa ben 14 volte. Una volta la polizia la sorprese in un'auto nel parcheggio della scuola con un ragazzo di 19 anni che fu accusato di abuso su un minore. In un'altra occasione la polizia fu chiamata a casa sua dopo una lide furiosa con sua madre Janet. Il comportamento sempre più ribelle di Rachel era legato alla sua improvvisa passione per i ragazzi. Arebbe fatto qualsiasi cosa per piacere ad un ragazzo e non doveva poi sforzarsi tanto perché con i suoi lunghi capelli biondi e i grandi occhi azzurri il conquistava facilmente. Rachel in realtà ammette solamente l'idea della classica bambolina americana. Avete presente quelle bambine che stanno nei collegi americani che hanno 13, 15, 16 anni, fanno le cheerleader, un bel faccino, occhi azzurri, capelli biondi e solo per questo pensano di poter fare tutto quello che vogliono, che possono poter avere secondo loro tutto quello che desiderano e non capiscono che la realtà è cosa ben diversa. La maggior parte delle volte però le sue relazioni finivano molto male a causa del suo carattere un po' troppo fumantino e forse perché riusciva sempre a trovare dei personaggi altrettanto maneschi. A 17 anni andò a vivere col suo nuovo fidanzato ma la polizia fu chiamata nel loro appartamento più volte per liti domestiche e alla fine la reazione fortunatamente finì. All'inizio del 2009 Rachel iniziò una relazione con un ragazzo di nome Joshua Camacho, di 20 anni, il ragazzo che sarà al centro della contesa. Josh frequentava la stessa classe di Rachel, suo padre era di New York e sua madre era originaria della Repubblica Domenicana. Era il classico cattivo ragazzo che faceva impazzire le ragazzine, era pieno di tatuaggi e spesso postava sui social media foto in cui fumava e agitava pistole. Il classico bimbo minchia che ormai abbiamo imparato a conoscere. Anche la relazione di Rachel con Joshua era molto tumultuosa e malsana. I due litigavano spesso per qualunque cosa e non aiutava il fatto che Josh fosse infedele. Rachel infatti aveva dovuto subire molti tradimenti da parte di Josh per tutta la durata della loro relazione. Le liti si intensificarono quando Josh iniziò a frequentare la diciottenne Sarah Ludeman alle spalle di Rachel. Sarah Rose Ludeman è nata il 7 dicembre del 1990, anche lei a Pinellas Park e viveva in una casa non lontana da quella dei Wade. Era l'unica figlia di Gay e Charles Ludeman ed era nata dopo 16 anni dal loro matrimonio. I suoi genitori si erano trasferiti in Florida da New York prima della sua nascita perché volevano vivere in un posto caldo. Suo padre era un tassista e a lei piaceva molto andare con lui sul suo taxi e mettere musica country alla radio. Era la cocca di papà, facevano tutto insieme. Alle scuole medie, mentre tutte le sue amiche uscivano con i ragazzi, lei non sembrava ansiosa di iniziare una relazione. Era cresciuta un po' sovrappeso e questo le causava dei piccoli problemi di autostima. Aveva iniziato il liceo a Tarpon Springs con l'intenzione poi di frequentare la facoltà di veterinaria. Era molto diligente e si alzava molto presto la mattina per prendere l'autobus che la portava a scuola. Alla fine della giornata suo padre la aspettava alla fermata per portarla a casa con lui. I suoi genitori erano orgogliosi di vedere la loro figlia così concentrata sul suo futuro e sapevano che avrebbe riportato degli ottimi risultati nello studio e nella sua carriera futura. Sara era una studentessa brillante e diligente, prendeva sempre voti molto alti e preferiva passare del tempo con i suoi amici o con il suo cane piuttosto che uscire con i ragazzi, come le sue coetane. Ma tutto cambiò quando incontrò Josh Camacho in un locale della sua zona, il Chick-fil-A, lui aveva lanciato uno sguardo ammicchiante e lei ne era rimasta colpita. Sara ovviamente non poteva sapere che lui stesse già frequentando un'altra ragazza e no, non era Rachel, ma una terza ragazza di nome Erin Slotwer con la quale aveva addirittura avuto un bambino. Sara e Josh avevano flirtato per tutta l'estate e dopo che Josh le aveva detto che l'anno successivo sarebbe andato alla Pinellas Park High School, la ragazza disse ai suoi genitori che voleva trasferirsi nella sua stessa scuola per stargli più vicino. Sara aveva ormai perso la testa per il suo primo amore e stava cominciando a cambiare. Iniziò con lui una storia d'amore burrascosa. Joshua non sarà una conquista positiva e purtroppo Sara non lo capì mai. I genitori di Sara non erano contenti della sua relazione perché sentivano che Josh non era il ragazzo giusto per lei a causa del controllo che esercitava su di lei, ma pensarono che essendo in loro un amore adolescenziale la relazione non sarebbe durata a lungo, ma si sbagliavano di grosso. Josh, come ho detto prima, frequentava anche Rachel che, al contrario di Sara, sapeva che vedeva altre ragazze ed era il motivo per cui i due continuavano a prendersi e lasciarsi. Quando Rachel, compie 18 anni, ottenne un lavoro come cameriera in un Applebee locale e riuscì ad affittare un appartamento. Josh iniziò a dormire da lei sempre più spesso, il che la portò ad affezionarsi sempre di più a lui. Quando l'estate finì, Sara invece iniziò a frequentare la stessa scuola superiore di Josh per rivederlo, ma lui non le diede molta attenzione. Per i primi mesi di scuola le concesse solo un'occhiata di passaggio e un leggero cenno del capo, ma a novembre, alla fine, lui decise di concederle maggiori attenzioni e di uscire di nuovo con lei. Il ragazzo però le mostrava il suo affetto solo in privato, mentre quando erano in pubblico quasi la ignorava. Diciamo che inizialmente, mentre Sara pensava di essere in una relazione seria, per Josh erano solo amici con i benefici. Molti degli amici di Sara iniziarono a preoccuparsi quando notarono che Josh esercitava un potere molto malsano su di lei. Sara infatti, per esempio, che era il tipo di ragazza che indossava pantaloncini corti ogni giorno, anche quando faceva freddo, aveva iniziato a indossare i pantaloni lunghi perché a Josh non piaceva che gli altri ragazzi vedessero le sue gambe. Sara arrivò al punto di cambiare anche il suo aspetto fisico per compiacere Josh. Nei pochi mesi in cui erano insieme, Sara perseva oltre 30 chili, tanto da non sembrare nemmeno più lei. Josh sembrava manipolare Sara, aveva anche iniziato a dirle con chi poteva uscire e con chi poteva parlare. I suoi amici le incoraggiarono a lasciarlo, ma lui ormai era diventato tutto il suo mondo. Essendo la sua prima relazione, non era così facile per lei accettare di non vederlo più. L'idea di rompere con lui non la sfiorava neanche perché sentiva di avere finalmente trovato qualcuno che l'amava veramente e credeva che, se lo avesse perso, non avrebbe mai trovato nessun altro. L'amore di Sara per Josh divenne col passare del tempo sempre più simile a un'ossessione. Nei primi sei mesi della loro relazione la coppia non era mai stata vista litigare, ma poi, improvvisamente, cominciarono a litigare violentemente anche in pubblico, urlandosi l'una contro l'altro, soprattutto a causa della gelosia di lei. La relazione diventò sempre più tossica. Pare che Josh una volta le avesse persino dato un pugno in faccia, ma quando la polizia era arrivata sulla scena, lei aveva rifiutato di sporgere denuncia contro di lui. Anche gli amici di Rachel le consigliavano di lasciare Josh perché sapevano che era un bugiardo, traditore e violento. Non capivano perché lei non lo scaricasse, aveva frequentato molti ragazzi e avrebbe potuto uscire con chiunque volesse, perché era molto carina, aveva un lavoro decente, un'auto e un appartamento. Ma niente, anche lei era letteralmente travolta dal suo amore per il giovane farfallone. Insomma, nessuna delle due, né Rachel né Sara, pensava di lasciarlo, anche se lui, Josh, non aveva letteralmente nulla di offrire loro. Quando Rachel scoprì la nuova relazione di Josh con Sara, iniziò a molestarla senza sosta, dapprima sui social media, in particolare su MySpace, inviandole messaggi pieni di rabbia e odio, poi al telefono con messaggi minacciosi. E Sara non fodda meno. Una volta scrisse a Rachel che Josh meritava di meglio e infatti si era messo con lei, perciò doveva lasciarlo in pace. Josh aveva detto a ciascuna di loro di aver lasciato l'altra, ma dopo averli accompagnato a casa Sara, che aveva il coprifuoco alle 23, lui usciva con Rachel, che di solito a quell'ora usciva dal lavoro. Quando Sara pubblicò su MySpace una foto con lei e Josh in spiaggia, Rachel le mandò un messaggio vocale dicendo ti ucciderò. Questa piccola disputa giovanile su un ragazzo, che francamente non sembra meritare tanto spreco di energie, iniziò però a sfuggire di mano alle due ragazze e a diventare piuttosto preoccupante e pericoloso. Le due ragazze arrivarono più volte ad uno scontro fisico vero e proprio, come pugni e strappi di capelli. Anche se a Rachel sembrava essere l'aggressore, Sara non subiva certo passivamente. Dopo uno dei massaggi vocali molesti di Rachel sul suo telefono, Sara con un gruppo di amici erano andati nel locale in cui lavorava Rachel e, mentre lei camminava con il vassoio, Sara la urtò e glielo fece cadere in terra. Non contenta, andò dal manager del locale a lamentarsi perché lei le aveva sputato sul loro cibo e aveva iniziato ad insultarla. Era una situazione che i genitori e la polizia pensavano fosse solo una rivalità adolescenziale che alla fine sarebbe scemata. Ma nel bel mezzo di questa guerra, Josh si trasferì da Rachel mentre frequentava ancora Sara. Ovviamente questo scatenò l'ira di Sara, ma non nei confronti di Josh, ma verso Rachel. Invece di infuriarsi con il ragazzo che le stava mentendo e tradendo, la rabbia di entrambe le ragazze si focalizzò sempre di più l'una contro l'altra. Il 14 aprile 2009 Sara, dopo aver letto dei messaggi d'amore di Rachel per Josh su MySpace, prese in pressione il minivan verde di sua madre e andò sotto casa di Rachel e, mentre lei portava a spasso il suo cane, le aveva urlato di lasciare in pace il suo uomo. Dopo quell'episodio e quello accaduto all'Apple B, Rachel rimase molto scossa. Aveva paura che Sara tornasse a molestarla. Chiamò il suo ex fidanzato, Javier Laboy, e gli spiegò cosa era successo. Lui la calmò e l'invitò a casa. Prima di lasciare la sua casa, Rachel afferrò un coltello da bistecca dalla cucina e se lo mise in borsa per usarlo per difendersi nel caso in cui fosse stata di nuovo aggredita. Prima di arrivare a casa di Javier, Rachel andò a casa di Josh e, invece di bussare alla porta, sbirciò attraverso le finestre e vide Josh e Sara insieme. Iniziò a mandare messaggi a Josh in preda alla rabbia, dicendogli «ora capisco perché non stai parlando con me, perché sei con lei». Lui rispose «sì, è giusto, non mi piaci più, perché non vai a casa?» E lei «no, aspetterò che torni a casa». Non avendo ricevuto alcuna risposta da Josh a quel messaggio, Rachel proseguì verso casa di Javier. Alcuni testimoni in seguito testimonieranno di aver sentito Rachel urlare a Sara «pugnalerò te e il tuo ragazzo messicano». Sara era rimasta a casa di Josh a guardare un film e a giocare ai videogiochi fino a dopo il suo coprifuoco. Mentre stava andando via, la sorella minore di Josh, Janet, chiese a Sara un passaggio al McDonald locale. Sara accettò. Lungo la strada incontrarono un paio di amici che la fermarono per dirle che Rachel era a casa di Javier e che stava parlando male di lei sui social. Sara si arrabbiò molto e decise di andare a confrontarsi con Rachel. Lei e i suoi amici andarono a casa di Javier e quello che sembrava un piccolo dramma adolescenziale si trasformò rapidamente in una tragedia mortale. Secondo la ricostruzione di Rachel, quando Sara arrivò a casa di Javier, lei era fuori con Javier appunto. Sara si era fermata nel vialetto e per poco non l'aveva investita. Poi Sara, Janet e gli altri amici erano usciti dalla macchina e si erano diretti verso di lei urlandole contro, provocandola e incoraggiandola a provare a pugnalarle se aveva il coraggio. Sempre secondo Rachel, Sara aveva iniziato a picchiarla, perciò lei terribilmente spaventata dall'atteggiamento aggressivo di Sara, che era più grossa di lei e dal fatto di essere in inferiorità numerica, nel tentativo di evitare i colpi e di difendersi, aveva afferrato il coltello che aveva messo nella sua borsa, le aveva accidentalmente sferrato due coltellate, una alla spalla ed una al petto, con tanta forza da penetrarle il cuore. Alcuni testimoni dissero di aver visto Rachel gettare il coltello sul tetto del vicino e con calma dire finito. Javier chiamò il 911 e Janet chiamò suo fratello Josh, che corse ad avvisare i genitori di Sara. Lui e il padre di Sara guidarono insieme verso casa di Javier, ma quando arrivarono Sara era circondata dai paramedici, che dopo averla soccorsa la portarono di corso in ospedale, dove però alla fine morì. La coltellata al cuore le fu letale. La polizia trovò Rachel seduta di fronte casa su una panchina mentre fumava una sigaretta. La ragazza disse alla polizia dove aveva gettato il coltello e fu portata alla stazione per essere interrogata. Mentre era lì ancora non sapeva quanto fossero gravi le ferite di Sara, ma quando le comunicarono che Sara era morta, la ragazza scoppò a piangere e disse di non avere mai avuto intenzione di pugnalare Sara, ma di avere soltanto cercato di farla allontanare. ragazza scoppò a piangere. La seconda parte di informazione che hai bisogno di sapere è che lei è morta. Oh mio Dio. E lei è morta come risultato di questi stabili che aveva in ospedale Northside. Rachel Wade fu arrestata con l'accusa dell'omicidio di secondo grado di Sara Ludman e portata nella prigione della contea di Pinellas. Mentre era in prigione in attesa di processo fece delle telefonate ad amici e parenti parlando di cosa avrebbe fatto una volta uscita. Sembrava abbastanza sicura che sarebbe stata giudicata non colpevole perché, dopo tutto, si era solo difesa. Disse che, una volta rilasciata, avrebbe sposato Javier. Javier, ma non aveva fatto tutto questo per Josh. Il processo iniziò il 20 luglio del 2010 e fu trasmesso in diretta a TV. L'avvocato della difesa, J. Ebert, sostenne che Rachel aveva agito per legittima difesa. La ragazza temeva per la sua vita, dopo essere stata attaccata da Sara e dai suoi amici. Citò l'incidente in cui Sara e i suoi amici avevano rovesciato il vassoio di Rachel e l'avevano presa in giro. Affermò quindi che era Sara a molestare continuamente Rachel. La difesa presentò come testimone Javier Leboi, che disse di aver visto alcuni litigi tra le due ragazze, ma ammise di non aver visto molto dell'intero incidente mortale. L'accusa, invece, presentò 12 testimoni, tra cui Josh Camacho, sua sorella Janet e un altro uomo che era presente al momento dell'omicidio di nome Dustin Grimes, che testimoniarono che era stata a Rachel ad aggredire Sara. Non appena il pick-up verde di Sara si era fermato nel vialetto di Javier, Rachel era corsa verso l'auto, aveva aperto la portiera del lato guidatore e aveva attaccato Sara mentre era ancora seduta al posto di guida e l'aveva appugnalata brutalmente alla spalla e al petto, colpendola così forte che il coltello si era piegato. Sara si era poi accasciata sul volante, sanguinando, mentre altri testimoni avevano chiamato la polizia. L'accusa fece anche ascoltare i messaggi vocali in cui Rachel minacciava di uccidere Sara mesi prima dell'incidente. Josh testimoniò che entrambe le ragazze avevano litigato per lui, ma fece di tutto per negare ogni sua responsabilità. In una deposizione giurata dichiarò che sì, aveva dormito con entrambe le ragazze e anche con la madre del suo bambino, ma comunque non erano le sue fidanzate. Affermò continuamente che per lui erano soltanto amici con benefici. Peccato però che ognuna di loro credeva di essere speciale e di vivere con lui una vera storia d'amore. Pochi giorni prima del vertetto, Rachel disse in un'intervista, ci penso ogni giorno, indipendentemente dal fatto che mi diano cinque o venti anni. Non ho mai avuto intenzione di farlo e dovrò conviverci, non importa se a caso o in prigione. Beh, avrà tempo di pensarci in prigione perché il 3 settembre del 2010 fu condannata a 27 anni di carcere con possibilità di libertà condizionata dopo 20 anni e mezzo. Il giudice disse che la ragazza aveva evitato la pena massima soltanto per la sua giovane età. Ci vollero solo due ore e mezzo alla giuria per raggiungere un verdetto colpevole di omicidio di secondo grado. Rachel Wade ha avuto le convulsioni mentre l'ufficiale giudiziario leggiva il verdetto della giuria, si è asciugata gli occhi con un fazzoletto, si è borsa le labbra e ha spostato i lunghi capelli biondi dal viso, infilandoli dietro l'orecchio. Poi, accompagnata da un agente, si è alzata e riuscita dall'aula per essere portata all'Howell Correctional Institution Annex nella contea di Penellas. Ha presentato appello, ma le è stato negato il 17 febbraio del 2012. Il padre di Sara, Charlie, che aveva intentato una causa civile contro Rachel, è morto meno di un anno dopo. Rachel Wade ora ammette apertamente che per Josh Camacho non valeva la pena rovinarsi la vita e soprattutto uccidere una persona. In un'intervista del marzo del 2011 con ABC News, ha dichiarato che i social media hanno giocato un ruolo importante nella rivalità tra lei e Sara e nel conseguente omicidio. Ha spiegato come sia facile che le cose online vadano oltre perché non ci si trova davvero faccia a faccia con il problema reale. Dietro una tastiera o una segreteria telefonica le cose sembrano molto più facili. È facile autoconvincersi di essere qualcuno che non sei e spaventare qualcuno senza doverti realmente confrontare con lui. Quando poi incontri la persona che hai minacciato, tante volte dietro uno schermo, si è così agitato che le cose possano degenerare e diventare rapidamente violente. Alla fine dell'intervista Rachel ha dato un consiglio a tutti i ragazzi della sua età per avvisarsi sui pericoli associati ai social network. A volte, quando qualcosa ti fa arrabbiare più di quanto tu sia stato, devi solo lasciarlo andare. Prendi un respiro profondo per pensare al perché sei così arrabbiato e scoperirai che la cosa per cui stai combattendo non è affatto così importante. Rachel ha anche voluto dare un consiglio ai genitori affinché prestino attenzione ai loro figli. Controllate come parlano e con chi parlano. Controllate i loro social network. Probabilmente se sia Rachel che Sara avessero avuto dei genitori più attenti e perché no più duri, tutto questo si sarebbe potuto evitare. Rachel è attualmente incarcerata in una cella del Florida Women's Reception Center in Ocala, in Florida, a circa 30 anni e i suoi registri dei detenuti affermano che la sua prima data di rilascio è il 29 settembre del 2032. Josh ovviamente non ha subito alcuna conseguenza legale per il suo atteggiamento che aveva portato le due ragazze a scontrarsi così duramente. Dopotutto non ha mai commesso alcun crimine. In seguito alla morbosa attenzione mediatica cui si trovò cadapultato, i suoi genitori lo mandarono a New York a vivere con un parente. I suoi conoscenti affermano che ha riallacciato i rapporti con Erin e che sta crescendo il loro bambino, mantiene un basso profilo ed evita i giornalisti. Per oggi ci fermiamo qui. Vi do appuntamento al mio prossimo video e vi ricordo, occhio a chi vi saluta sempre. Ciao.